Quattro palli da migliore by Christian Evans, 18 bucche, giocata oggi. I premi sono stati gentilmente offerti dalla Christian Evans. Bravi! La finale di questa gara ci sarà il 28 e il 29 aprile per la categoria Longo e Netto al Golf Card Lanare e il 5 e il 6 maggio al Golf Club Berendena per le categorie Signore, se è quella mista. Prima coppia mista, quella mista al Golf Redendena il 5 e il 6 maggio del 1996. Allora, prima coppia mista, ecco l'interessato Roberto Lazzarini e Manola Conti. Bravo Roberto! Ecco perché mi doveva andare in giro. Ha giocato lui per tutti e due. Bravi, complimenti, bravi, una bella foto, venite. Vai, perfetto. Prima coppia, segno, Antonio Villacci e Renzo Damiani con 30 minuti. Grazie, molto bene. Anora, anora, erano fuori le cose, ma... Aspetti la foto, eh... Aspetti la foto, eh... La, perfetto. Prima coppia Nennetto, Costantino Todis e Valerio Pacini con 40 minuti. Qua, questa nera, a me ci piace il nero. E' forte, forte, Costantino. E' forte, forte, Costantino. Molto bene col nero, grazie. Facciamo la foto. Aspetti, mettiamo il nero. Perfetto, vai! Ah, cazzo a voi. E' prima coppia Nennetto, Niccolò Caponi e Mirko Componio con 29 punti. Bravi! A ritirare voi, molto bene. Uno, due, tre e una.